Carolina Isella, milanese, viaggiatrice, amante dello zaino in spalla, 25 anni, lavori nella comunicazione come fotografa e social media manager, freelance. Quindi lavorando con i computer sostanzialmente hai molta libertà. Tu hai iniziato a viaggiare giovanissima, i tuoi genitori ti hanno trasmesso nel DNA questa passione? Esatto, esatto. Il mio primo viaggio è stato a 15 mesi, alle Maldive, che ovviamente non ricordo. Però abbiamo una bellissima foto, un braccio al tuo papà. Esatto. Eh? Sì, e poi da lì a me e i miei fratelli ti hanno sempre portato nel sud-est asiatico, che infatti ho nel cuore, dove un po' sono cresciuta e che reputo anche un po' la mia seconda casa. Primo viaggio da sola, quanti anni avevi? 21 anni, ho preso e sono andata, mi sono buttata, sono stata due mesi nel sud-est asiatico e ho girato, ho fatto tantissime esperienze, conoscenze, e da lì è partito un po' molto di più questa mia passione per il viaggio.